29 consiglieri regionali del centro-sinistra rinviati a giudizio. La prima udienza è stata fissata per il 19 ottobre davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Cagliari, molti i nomi illustri. L'unico che ha chiesto di essere processato il giorno prima, cioè il 18 ottobre, col rito abbreviato, il sindaco di Alghero, Mario Bruno. Queste le conclusioni davanti al giudice dell'udienza preliminare, Roberto Cao, per i politici accusati di peculato nell'ambito dell'inchiesta sui fondi destinati ai gruppi nella tredicesima legislatura dal 2004 al 2009. Al sindaco di Alghero, cui la procura ha tenuto conto di quanto giustificato come spese transitate sul conto per finalità politico-istituzionali, resterà da discutere con gli avvocati Nicola Littarru e Angelo Nanni sulle spese per 46.000 euro autorizzate nel ruolo di tesoriere di Progetto Sardegna. Molti nomi illustri che dovranno affrontare il processo, tra questi Silvio Lai, Giacomo Spissu, Gavino Manca, Beniamino Scarpa, Gio Maria Uggias e Giovanni Giago. Le spese contestate vanno da oltre 80.000 a poco più di 20.000. Grazie a tutti. Grazie a tutti.